Bilancio positivo con pochi rammarichi per il presidente uscente della Camera di Commercio di Salerno. A poco più di due settimane dal voto per il rinnovo dei vertici dell'ente di Via Roma, Strianese si è detto soddisfatto del lavoro svolto, ma al contempo ha bocciato la politica degli industriali colpevoli di aver impedito un'eventuale proroga del suo mandato, voltandogli le spalle e ponendo le basi per le elezioni di un presidente esponente del mondo del commercio. Un'alternanza che Strianese avrebbe evitato, senza contare che il presidente ha dovuto anche lasciare l'incarico ai vertici dell'Unione Camere della Campania e di Asso Camere Estero. L'unione regionale decada nel momento in cui io non sono più presidente, però siccome io ho un mio stile e una mia dignità, io mi sono già dimesso, quindi l'abbiamo già persa. Per quanto riguarda invece l'Asso Camere Estero, per statuto io posso mantenere la presidenza fino alla scadenza del mandato, però come facilmente potrete capire il potere contrattuale è diverso. Io come appartenente alla Confindustria vi assicuro che non avrei ceduto a questo momento di rotazione, anche perché non vedo la differenza fra prima e dopo. Io vi ricordo che la Camera di Commercio è stata presieduta dal commentatore Antonio Pastore, che è confcommercio per 18 anni e prima di lui per 5 anni da un parlamentare, Gaspare Russo, che era di estrazione commerciale. Quindi se il commercio aveva tenuto per 23 anni questa presidenza non vedo perché noi la dovevamo lasciare dopo 10 anni. Chi ha deciso questo per me è sbagliato. Qualunque cosa è un mestiere, di solito quando tu hai imparato il mestiere poi ti cacciano via e siccome avrei potuto ancora dare qualcosa, il rammarico è che abbiamo perso questo contributo che forse ancora potevo dare, questo è il rammarico. Non è ancora il tempo del pensionamento, assolutamente. Ma io non ci penso proprio, già due giorni alla settimana sono tornata nella mia azienda che mi fa vivere. Polemiche a parte, comunque, Strianesi ha rimarcato la profonda trasformazione della Camera di Commercio da ufficio periferico del Ministero ad ente autonomo, vero e proprio, e poi ovviamente quella che considera la sua principale creatura, cioè l'aeroporto Salerno-Pontecagnano, i cui voli sono iniziati sotto la sua presidenza.